11 anni, ha giocato nella Lazio Silvio Piola. Se la merita è come la medaglia d'oro donata gli dalla sua vecchia società. La Lazio ha fatto 7 punti in 4 partite, oggi ne prenderà altri 2. Per vincere le basta metà del primo tempo. Attenzione, calcio d'angolo, testa di Effley, gol, è uno. Un quarto d'ora e verrà il secondo. Punizione di Cecconi, parata, la palla è sfuggita a Corgi. La riflende Flamini, nuovo tuffo di Corgi. Ma Effley arriva prima di lui, e il gol è fatto. Due nel primo tempo, due nel secondo. Dopo che Sentimenti Quarto ha respinto a pugni tesi una punizione del vecchio Ferraris, Corgi torna alla sua fatica senza premio. Stavolta fa da tempo a fermare l'impetuoso Niers. Ma di fronte al tiro angolato di Puccinelli, si dichiara battuto. E tre. Adesso diventa protagonista l'arbitro. Lascia correre questo sgambetto a Niers, roffa da romperci in collo. E c'è di peggio, guardate. Non vi pare che somiglia a un pugilato. Ma tutto è bene quello che finisce bene. Niers getta lo scompiglio della difesa novarese e Effley le raccoglie i frutti. Quaterna secca. Grazie. Grazie.